Indagini in corso da parte degli inquirenti dopo che nella scorsa serata si è avvertito un forte boato all'ospedale Ruggi di Salerno. Il fatto di cronaca è intorno alle 21. Il botto è stato avvertito soprattutto da chi stava lavorando e dai pazienti ospitati nel padiglione che si affacciava verso l'area dell'obitorio. Gli investigatori intervenuti non si pronunciano ma non escludono alcuna pista. Toccherà loro cercare di dare delle risposte agli inquietanti interrogativi. Innanzitutto capire se si è trattato di un petardo o di un orimentale bombacarta. E poi a chi era indirizzata perché in quel padiglione della struttura ospedaliera vicino alla sala mortuaria? Insomma tante le domande a cui adesso gli inquirenti dovranno dare le dovute risposte.